Siamo una buona rosa, abbiamo dei buoni ricambi e sono sicuro che tutti si faranno valere. Abbiamo qualcosa, la notizia buona è che Pizzutelli la martedì sta in gruppo, sicuramente pure Lazzerini anche se non la avremo domani perché c'è avuto una contrattura ieri, chiedo scusa, e qualche altra cosa ancora, Magliocca c'è avuto una piccola ricaduta, però dai, siamo pronti e faremo una buona gara. Abbiamo tutti, abbiamo Campaner, abbiamo Mastino, abbiamo Ruggeri, abbiamo Zona, abbiamo alternative secondo me ottime, di qualità e non dobbiamo mai pensare a chi pensa, se no è a chi manca, se no diciamo chi manca ha sempre ragione, non è vero. Siamo un buon gruppo, una buona rosa e perciò domani chi scenderà al campo dovrà scendere al massimo delle possibilità e io sono convinto che faremo una buona gara. Visto le ultime partite che hanno fatto, anche quella domenica che hanno perso 3 a 1, devo dire che sarà una partita battagliata sempre, è una squadra che è a corsa, ha giovani interessanti, Valentini è molto interessante, l'esterno destro Mancino, Settimi, l'ander è molto molto interessante, so che anche loro avranno qualche problema, non staranno al 100% perché in dubbio Cicanda, Rossi, sappiamo un po' tutto diciamo, però è una squadra coriacea, è una squadra poi messa bene al campo da Monaco e sicuramente sarà una partita da battagliare, come dico sempre io, anche perché loro hanno bisogno di punti. Però noi sono convinto che siamo pronti, siamo pronti e soprattutto sapere che sarà una partita tosta sotto il piano della corsa, del fisico e abbiamo tutte le armi per poter far bene. Sembra paradossale dirlo rispetto agli obiettivi di inizio stagione, però con gli scontri diretti che ci sono in questo turno di campionato, il Gavorrano che arriverà qui al Comunale tra una settimana, insomma potrebbero essere dieci giorni, non dico decisivi, però importanti anche per l'Arezzo. Ma non so dieci giorni, saranno due mesi, due mesi e mezzo, ma importanti come ti ripeto, ho detto l'altra settimana, per noi stessi, per far capire a tutti che noi cerchiamo di onorare sempre quello che facciamo, da tutti i giorni di allenamento e ogni volta che scendiamo in campo dobbiamo dare tutto. Poi io sono convinto che noi otterremo dei buoni risultati e non guardiamo gli altri, guardiamo a noi, guardiamo noi stessi, umili, andare in campo come dico io, prima con la sciabola, invece in tante partite siamo andati un po' col fioretto, con la sciabola, e poi una volta che sciabolliamo bene penso che abbiamo le qualità per poter prendere le soddisfazioni che meritiamo.